L'ospedale da campo realizzato a Termoli dalla Croce Rossa è diventato di fatto un centro per le vaccinazioni contro il covid. Da questa mattina e per un tempo indefinito operatori della Croce Rossa, del Santimotio e della protezione civile al lavoro per somministrare il vaccino agli over 80 ma c'è la massima disponibilità ad allargare il raggio di azione. In pochissimo tempo le tende sono state predisposte per garantire questo nuovo servizio inizialmente non previsto. C'è un'area di accoglienze, di triage, l'area per le vaccinazioni e un'altra tenda per permettere ai pazienti di attendere eventuali reazioni al vaccino. Solo nella giornata di oggi previste 250 vaccinazioni. Finalmente siamo operativi, oggi dovremo fare 250 vaccini, sono stati giorni diciamo complicati, ecco noi come Croce Rossa eravamo a completa disposizione e lo siamo ancora per l'ospedale, abbiamo un po' rimodulato la risposta per essere veramente efficaci e operativi. Siamo in completa sinergia con l'ospedale, c'è un punto vaccinale che era in ospedale però date un po' anche la scarsezza delle forze insomma e anche un po' la complessità della situazione ci siamo integrati con Croce Rossa e possiamo praticamente assicurare 4 o 5 volte i vaccini che loro potevano fare giornalmente. Negli operatori provenienti da ogni parte d'Italia la voglia di aiutare chi ha bisogno di regalare un sorriso a chi ha gli occhi pieni di paura, c'è chi ha lasciato il proprio impiego per venire a Termoli. Lavoro a Siena, nel reparto di neuro-rianimazione di Siena, sono un volontario del corpo militare della Croce Rossa, è arrivata una richiesta d'aiuto da questa azienda e quindi con la Croce Rossa siamo venuti a montare insomma questa tenda e poi da lì abbiamo, ci siamo resi disponibili o per le vaccinazioni o per decongestionare i pazienti che arrivavano al pronto soccorso. Oggi abbiamo iniziato con questa vaccinazione, sembra che stia andando tutto bene quindi speriamo che continui così e mai natale da aiutare la popolazione e riuscire insomma nel più breve tempo possibile a uscire da questo periodo che ci siamo stancati tutti insomma. Sul volto degli anziani non manca però il sorriso, vaccinarsi lascia un po' alle spalle la paura di un anno insopportabile di pandemia. Più tranquilla così? Sì, sì. Bene, bene. Proprio adesso siamo più bene perché siamo duri. Speriamo di sì. Come ha vissuto questi giorni, questo anno intero con il Covid? Come lo ha vissuto? È stata preoccupata? Eh, non poco, non poco. Fanno male tutto l'osso, l'osso. Fanno male l'osso, tutto l'osso. Però adesso col vaccino lei è più tranquilla? Eh, beh, speriamo. Mi sento bene, bene. L'unico rispetto è che mangio due piattoni di pasta a mezzogiorno. Quanti anni ha lei? Io? Ho finito a dicembre 80 anni e adesso è il quarto mese di 81 anni. Da dove viene? Da Guglionesi.